Una lite per sms si è trasformata in un'aggressione in strada con liquido infiammabile. Questo è il drammatico epilogo di un episodio avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 tra via Luigi Capuana e via Ventimiglia dove una giovane di 26 anni è stata ustionata al volto, all'addome, alle spalle e alle braccia. Una passante ha avvertito il 112 consentendo l'intervento degli agenti e delle volanti e le indagini avviate della squadra mobile. La vittima è stata soccorsa e portata prima all'ospedale Garibaldi Centro per essere poi trasferita al centro grandi ustioni del Cannizzaro e ricoverata in rianimazione con il 20% di ustioni sul corpo. La lite sarebbe scoppiata perché le due si contenderebbero un ragazzo e poi degenerata con il lancio del liquido urticante da parte di una donna, verosimilmente la madre di un'altra ragazza, e che la vittima non era l'obiettivo ma una familiare con cui la ragazza aveva precedentemente discusso. Gli investigatori della mobile stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.